verbo venire presente indicativo io vengo tu vieni lui viene lei viene noi veniamo voi venite loro vengono io vengo dall'Italia noi veniamo da Est passato prossimo si forma con il participio passato io sono venuto tu sei venuto lui è venuto lei è venuta noi siamo venuti wir sind gekommen voi siete venuti ihr seid gekommen loro sono venuti sie sind gekommen sono venuto a portare la spada io sono venuto alla spada a portare ich bin gekommen um das schwer zu bringen noi siamo venuti a te adorare wir sind gekommen um dich an zu beten imperfetto e passato remoto preteritum io venivo io venni ich kam tu venivi tu venisti du kamst lui veniva lui venne er kam lei veniva lei venne sie kam noi venivamo noi venimmo wir kamen voi venivate voi veniste ich kamt loro venivano loro vennero sie kamen ritornai a casa in mia abitazione veni io di nuovo in meine heimat kam ich wieder noi venimmo super aiutare wir kamen um zu helfen futuro semplice futura eins io verrò ich werde kommen tu verrai du wiest kommen lui verrà er wird kommen lei verrà sie wird kommen noi verremo wir werden kommen voi verrete ihr werdet kommen loro verranno sie werden kommen futuro anteriore futura zwei io sarò venuto ich werde gekommen sein tu sarai venuto du wiest gekommen sein lui sarà venuto er wird gekommen sein lei sarà venuta sie wird gekommen sein noi saremo venuti wir werden gekommen sein voi sarete venuti ihr werdet gekommen sein loro saranno venuti sie werden gekommen sein il condizionale presente e il congiuntivo imperfetto vengono tradotti dal coniuntiv zwei io verrei io venissi ich käme tu verresti tu venissi du käme lui verrebbe lui venisse ea käme lei verrebbe lei venisse sie käme noi verremmo noi venissimo viä kämen voi verreste voi veniste iä kämet loro verrebbero loro venissero sie kämen imperativo imperatif vieni vieni tu com venga venga lui come veniamo noi kommen via venite voi comt vengano loro kommen sie vieni 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 Grazie a tutti.